Mi è stato dato l'onore stasera di presentare Pino Leto, un campione di pugilato, otto volte campione italiano, se ricordo bene, e campione europeo. Venuto e arrivato dalla Sicilia, viene dal cuore della Sicilia, viene dal palermo. Sono arrivato in mattinata, abbiamo proiettato il film che è stato tratto dal libro che ha scritto sulla sua storia di vita nelle scuole con le classi della scuola media Morelli. Quindi siamo in giro questa mattina a presentare questo libro e questo film. È un piacere, una gioia, averlo qui stasera. Sarà una serata un po' particolare, perché la presentazione del libro non sarà delle solite, come vedete anche le disposizioni che abbiamo scelto. L'idea ce l'ha data a lui, il suo calore, il modo di cui si è presentato ai ragazzi stamattina. E quindi il calo, i microfoni e queste cose un po' formali e sterili, non ci piacevano presentare quest'uomo dall'umanità grandissima. e quindi ci saranno, io parlerò un poco, farò parlare lui, parleranno estremoti del film che vedremo, la musica, le musiche originali studiate da Stefanolino con il supporto di Mohamed e gli altri ragazzi che sentirete e delle letture di alcuni attori che poi prenderanno appunto le parole della storia del filmo letto, Riccardo, il suo valore d'attore, Maria e Giovanni. Papà Zunippo, di 19 anni, e mamma Caterina, di 17. Lui ama, lo conosce, come una quercia. Lei maglia, come un manico di scopa, è molto bella. Se ne erano più giuti perché non è raccontare dal matrimonio. Grazie a tutti. Formare a scuola con la sua vita sottile e musione, chissà che compagni mi troverò. Sapevo che non avrei in più visto Giovanni, perché con la sua famiglia avevo cambiato quartiere. Hai visto che ero ripetente e trovai tutta gente sconosciuta. Certo, un bel impatto, anche perché ero stato segnalato alla maestra come sua madre assente abituale. Con me non si scherza, furono le sue prime parole. Chi sbaglia paga. E subito comincia un appello. Accardi, Buzzetti, Di Fresco, Festosi, Guagliardo, Leto Aurelio. Non sentire il mio cognome, mi alzai di scatto. Presente? La maestra mi guardò il cagnesco e il contone mi attuoso mi disse. Cominci bene. Me l'avevano detto che sei un indisciplinato, ma con me avrai pane per i tuoi denti. Scese giù dalla cattedra e venne a tirarmi l'orecchio, che quasi me lo staccone. Ai, ai, maestra, ma che fai? Continua così che ti caccio via dal primo giorno di scuola. Poi riprese l'appello. Leto Francesco. Senza un attimo di distrazione, mi alzai di nuovo. Presente? La maestra cambiò di colore. Mi afferrò per i capelli, urlando come l'invasata. Io ti rinno, ti è spellottita. Mentre io mi chiedevo perché mai mandavano nelle scuole delle pazze sconsiderate come lei. E siccome non mi lasciava i capelli, fui costretto a prometterle. Va bene, non l'ho fatto più, mi lasci. Sembrò placarsi. Tornata alla scrivania a proseguire. Leto Giuseppe. Leto Giuseppe. Io mi chiedevo, che fatto, mi alzo o no? E lei ancora? Leto Giuseppe. Ah, insisti, vuoi la guerra? Ma io ti rinno, ti caccio per sempre dalla scuola. E afferrata la bacchetta, si scagliò contro di me. Ma veramente pazza è? Se mi altro che urla della maestra, anche essa racconta dai minuti. Un attimo e fu immobilizzato. Arrivò pure il direttore, che mi incalzò. Sei tu, Leto? Ne ero sicuro. Solo tu devi combinare con questo filmotto. La maestra, non lo faccio proseguire. Devo spendere la relazione per il provveditorato. C'è una soluzione. L'espulsione da tutte le scuole. E il direttore mi guardò a freddo. Hai visto? Ti sei eliminato con le tue mani. Ma perché? Che ho fatto? Allora, io devo dire una cosa subito. Appena mi è stato chiesto di fare questa cosa, di presentare il tuo libro, non so che come tu fossi. E ho detto, perché un cugile scrive un libro? A un certo punto decide di scriverlo. Poi ho compratto il libro, l'ho ordinato, mi è arrivato, e ho legato questa cosa. Le parole sono tutte uguali, tutte perfette, tutte no. Le storie sono tutte diverse, tutte imperfette, tutte niente. Una di queste storie è quella di Lino Leto. E stamattina ti ho sentito a scuola con i ragazzi. Non le ho preparate, le ho preparate altre domande. Però, avete visto stamattina con i ragazzi, è stata una rivelazione per me. Tu non hai, in tutte le domande, il discorso che hai fatto, parlato della tua carriera da un cugile. Tu hai guardato i ragazzi in occhi, ti sei riempito della loro energia, della loro giovinenza, e hai parlato a loro, hai parlato a loro di dignità, hai parlato a loro di rispetto, gli hai detto, siate lo buono dei vostri genitori, dati valori, date valori a quello che fate, credeteci. Come sono segnata queste cose? E ho rivoluzionato un po' perché volevo chiederti di leggere il mio libro. Perché mi ha colpito questa mattina, ti ho detto che mi hai emozionato. E' vero, i ragazzi, a un certo punto del film, quando correvano i titoli dei giornali, dei tuoi successi, hanno straudito automaticamente. Perché? Non perché tu fossi solo un campione, ma perché prima ti hai parlato a loro di un cuore. E quindi vedere... Te, poi, con lento il libro, ti prego, non l'ha letto, lo legga, perché è veramente bellissimo. Con l'infanzia che hai avuto le difficoltà, i problemi, avere questa forza. Cioè, ecco, sei l'emblema della forza, da solo. Buongiorno per questi. Tutti i buoni proposti, coltivati dal periodo di lavoro, con il serito, si chissà, ricercavano addirittura dalla casa o dalla marina per i punti e per le rive le certe controverse della propria. Fu in quel periodo che venivo controllato a vista da un sito in uso e di vedere in meia possibile un ciotto d'onore. Buongiorno per i punti di vedere in meia possibile un ciotto d'onore. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.